Musica Buongiorno, sono Federico Carioti e sono il tesoriere dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria. Oggi 25 ottobre 2019 stiamo celebrando la terza edizione del Festival del Servizio Sociale con la tematica l'omofobia e il titolo è diverso da chi. Tematica fortemente evoluta da tutto l'Ordine regionale degli Assistenti Sociali della Calabria nella fase organizzativa appunto di quest'oggi. È una tematica che comunque ha anche dei precedenti perché se siamo arrivati a quest'oggi a festeggiare la nostra terza edizione proprio appunto per l'omofobia è perché nel corso degli anni l'Ordine degli Assistenti Sociali comunque è stata parte attiva anche a partecipare ai vari Pride che sono avvenuti negli anni in Calabria. La nostra prima partecipazione è stata a Tropea, poi sempre siamo stati invitati, abbiamo comunque patrocinato con il nostro logo anche il Pride di Cosenza e non ultimo quest'estate sempre a Reggio Calabria. Quindi noi come Ordine degli Assistenti Sociali siamo vicini alla tematica e di certo non finirà oggi perché l'obiettivo del Festival non è concluderlo oggi con la chiusura dei lavori ma il bello del Festival è che arrivi il messaggio già da stasera o da domani nei nostri uffici, nelle nostre famiglie e dare un messaggio a tutti quanti perché comunque come dice il titolo, diverso sì, ma diverso da chi? Grazie a tutti!